ma prima di tutto quando andate su youtube a guardare i video siccome ho notato che tanta gente non lo sa che ci sono già online pure gli altri e non ho voglia stare sempre a metterli in giro su facebook sembra che faccio spam andate sul canale electronic marine schiacciate iscriviti e questo vi avvisa youtube in automatico ogni volta che poi io vado a pubblicare un video a questo riguardo se non volete più essere iscritti in qualunque momento non c'è bisogno di mandare mail o di fare nient'altro basta andare e rischiacciare lo stesso pulsantino di iscrizione e non sarei più iscritto al canale ora andiamo a vedere in opencpn come fare a importare i file grib prima si va su zigrib si scarica il programmino della zigrib io lo faccio in questo modo poi ci sono tanti altri modi uno più complicato dell'altro io ho trovato questo che è il modo più veloce con quale io posso farlo si seleziona un quadratino sulla zona che vuoi scaricarti i grib per spostarsi dentro l'applicativo suo si usano le freccette su in alto è un po' controintuitivo però selezioni il quadratino vai su file download grib poi qui ci sono i vari opzioni vento, raffiche, temperature, bale varie e così via poi invece per i modelli vv3 anche le onde e così via è quello che a me interessa e quello che io scarico non sto a fare una cosa in dettaglio e poi basta schiacciare download lui si connette al server e lo sta scaricando fatto, ti chiede dove li vuoi salvare la cosa più facile è mettere una cartella su desktop così sai trovarla dopo nell'opencpn è più facile va a salvarli lì e adesso ha scaricato i grib poi si possono vedere sia qua direttamente nel suo applicativo del zigrib e dopo vi faccio vedere come andare a farlo in opencpn ora io li ho selezionato solo quel pezzo perché? perché in questo momento con solo quel pezzo selezionato sono 132 e k se invece come dimensione se invece vai a prenderti per dire tutta la parte di mediterraneo perché ti interessa una parte più grande del mediterraneo la selezioni di più e poi la dimensione dei file sarà 1,1 megabyte perché è importante questo? perché quando lo scarichi dal telefono satellitare in mezzo all'atlantico ti interessa solo una zona vicina a te è inutile stare a scaricare tanti megabyte che te li consumi e li paghi poi c'è da dire che la risoluzione da qui ti puoi cambiare la risoluzione in gradi il tempo, l'intervalle in quale te lo sta scaricando è il periodo in giorni qua è la GFS, l'ultima della run dei server e così via se li diamo a scaricare con connezione wifi li scarichi ovviamente veloce perché ho scelto di usare questo modo? perché così in questo modo io posso andare col telefonino, me li scarico da Zgrib dal bar e dopo me li riporto nel computer per non stare a portare il computer tutto appresso poi ce ne andiamo nell'opencpn abbiamo il pannello Grib adesso sono già precaricate andiamo su desktop a prendere le ultime che c'erano nel Grib e qua abbiamo due file uno che è quello grande e uno che è quello piccolo da 108kb apriamo prima quello piccolo quello piccolo ci da poi quando fai zoom out solo la zona interessata la risoluzione è più o meno uguale e quindi solo che per limitare la dimensione dei file faccio generalmente così se invece andiamo a prenderci a guardare l'altro quando andiamo a zoomare fuori ci fa vedere tutta la parte che abbiamo scaricato con le frecce ora ci sono tante opzioni giustamente nel suo menu di opzioni però prima di tutto qua si va avanti dice l'ora qual è il Grib adesso ci sono 1426 la più vicina sarebbe le 15 la previsione e così via e poi now ti porta adesso all'ora corrente l'ultima che c'era era 12 poi quando passeremo l'ora alle 15 passerà alle 15 utici qua ci abbiamo vento raffiche che si possono aggiungere quando vai con la freccetta del mouse sopra lo schermo dove vai con la freccetta lui ti fa vedere poi qua su l'intensità e lo stesso se li metti onde per esempio ti fa vedere l'altezza dell'onda il senso da dove stanno venendo e così via comunque nelle opzioni abbiamo mappa animata che la possiamo usare applica ok e se andiamo a fargli un po' di zoom out fa vedere più o meno come stanno andando per la mappa animata puoi scegliere una densità maggiore e quindi iniziano a fartelo vedere più più rare poi c'è la trasparenza che ti puoi regolare la trasparenza della visualizzazione ci sono tante tante opzioni il plugin per sé è bello andiamo avanti questo permette di vedere un po' la situazione generale del del riquadro ti fa capire un po' meglio come come stanno andando le correnti e tutto quanto poi vai a cambiare e questo momento da me si muove proprio come vuole lui siamo sul risparmio energetico e sul computer lentissimo ragione per quale non sta andando molto veloce ma altrimenti crea una bella visualizzazione per capire un po' qual è l'andamento e qual è la situazione generale di tutto di tutto l'insieme andando avanti per giorni e per ore lui continua a farti vedere qual è l'andamento come sta andando e questo è il grib e come li puoi vedere ora c'è il modo di farlo scaricare direttamente da da opencpn basta farsi il count su zigrib e tutto quanto e impostarlo e poi mandi la richiesta e te lo rinvia direttamente però siccome non uso sempre zigrib preferisco farlo dall'altra parte almeno è una questione di preferenze personali mia e questo è il pannello zigrib a cosa ci serve questo oltre al fatto di sapere più o meno come è il vento quando andremo a configurare il weather routing per fare il routage dal dal computer usando i file zigrib lui usa proprio i paneli dei file grip che stai scaricando